Al termine delle elezioni amministrative che hanno decretato l'investitura di Roberto Materi a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, la coalizione che ha sostenuto la candidatura di Giussi Turrisi avanza una serie di proposte per la politica cittadina. L'obiettivo è quello di pianificare una presenza stabile in città. Il gruppo di impegno e partecipazione di lezione domani ha così elaborato un documento organizzativo che sarà prossimamente discusso in assemblea. La struttura potrà contare su uno staff per la comunicazione e sarà guidata da un coordinamento del quale faranno parte anche i cinque consiglieri comunali eletti. Sono previsti anche dei gruppi tematici di osservazione e proposta che saranno aperti a tutti e guidati da un responsabile. Sei le tematiche di riferimento attorno alle quali si svilupperà l'attività del gruppo, ovvero salute, sviluppo economico, ambiente e territorio, decoro urbano e innovazione, famiglie e politiche sociali, giovani. Verrà inoltre realizzato uno sportello dell'accoglienza per l'ascolto, la raccolta di proposte, suggerimenti e segnalazione di disservizi da parte dei cittadini. Prevista anche una scuola di formazione politica per formare eventuali amministratori del domani. Nelle intenzioni di Giussi Turrisi questo dovrebbe rappresentare uno strumento super partes rispetto ai singoli schieramenti. L'obiettivo di realizzare la scuola di formazione politica passerebbe anche attraverso il partenariato con enti di formazione universitaria. Lo stesso candidato di direzione domani ha invitato alla condivisione dell'iniziativa anche i rivali dell'ultima tornata elettorale cittadina, ovvero Roberto Materia, Maria Teresa Collica, Giuseppe Sottile e Giovanni Munafò.